E' arrivata l'estate, è arrivato quindi il momento di andare a comprare i profilattici Si, comprato il profilattico andiamo, dov'è che si srotola, andiamo ad utilizzarlo in un modo originale Lo mettiamo così al di sopra del nostro cellulare Lo srotoliamo fino in fondo e andiamo a fare non uno, ma ben due nodi di sicurezza Uno e due nodi di sicurezza E quindi abbiamo reso il nostro cellulare un cellulare assolutamente impermeabile Lo possiamo accendere, scorriamo il menu, andiamo nell'home page, selezioniamo i numeri Funziona benissimo anche in viva voce, tutte le funzioni del nostro cellulare sono assolutamente varie Compresa quella della nostra fotocamera, quindi potremo fare delle fotografie subacque Dato che il profilattico è trasparente Continua a funzionare anche la funzione di vibrazione, nel caso non vogliamo disturbare le persone che state facendo il bagno Possiamo, ti ho detto, fare il viva voce e fare il bagno in tranquillità In più abbiamo la possibilità, soffiando leggermente nel profilattico prima di annodarlo Di far entrare un po' d'aria e quindi rendere il tuo cellulare galleggiante E se stai facendo il bagno non lo potrai perdere nel mare Porta sempre con te il cellulare con questa strepitosa idea di mille accendini Per far diventare il tuo cellulare una strepitosa macchina subacquea e protetto in mare Ricorda, il profilattico può proteggerti